Sto usando OBS, quindi sto diventando un bimbo grande. In realtà il motivo per cui sto usando OBS è perché dall'altra parte sono in videochiamata con Manuel. L'unico modo per fare la videochiamata è avere lo streaming della videocamera in Discord e lo streaming in Twitch, è avere OBS con la sua fantastica virtual camera. No, presto succederà anche questo. Che tra l'altro il primo streaming che abbiamo fatto in realtà avevamo Discord in modalità finestra in sovrapposto e si vedeva anche Manuel, però ci voleva troppo. Quindi siamo partiti dall'alto, siamo tornati in basso e piano piano. Arriveremo di nuovo lì, ma migliori. Come quando abbiamo riscoperto il vapore dopo i greci, ci siamo arrivati di nuovo e poi lì ben sono passati. Grande citazione. Yes, ho stasera zero errori, ho poco tempo, quindi andiamo dritti. Spieniamoli. No problem, io vengo da un puzzle. No problem, io vengo da un puzzle. dobbiamo organizzare una cena con i tuoi amici inglesi. Come connessione persa, non fare scherzi. Ma in teoria puoi, quando vuoi, ricordi che l'altra volta... ... ... ... Temo di nuovo, lo faccio adesso. In teoria ho risolto anche il problema che ti sentivi in italiano nel tuo stream, mi sa, non dovresti più sentirlo, hai visto quanti cambiamenti, solo una volta, madonna quanto ho lanciato male quella granata, come si fa? No, sono morto, sono caduto nelle acque di Camino. Mi sono perso nella CGI come Obi-Wan, l'attacco dei cloni. Io ho deciso che sicuramente comprerò la campagna di Destiny. Quello lo farò. Poi non so se comprerò le stagioni, forse quelle no, però la campagna sì. Ok, I'm too invested yet. Dai, sono di nuovo morto come uno stronzo. Come si fa? Ho detto che sarò bravo, sarò veloce, sarò bravo. Beh, infatti, in realtà è anche il motivo per cui sono morto io. però non dirlo troppo morto. Non preoccuparti, fanno buon uso. 5 secondi. 5 secondi. Beh, ho detto. Grazie. Qui ci sono dei ragni, non servono a niente. Uh, qui c'è un fucile particellare, questo può interessare te, alla parete. No. Cosa è esploso? Non mi è piaciuto che... Sai che è la seconda volta che muoio nello stesso modo? Ah, ok. 15 secondi. Ah, bisogna distruggere la torretta, giusto. Grazie. 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 Grazie a tutti. Mm-hmm. Grazie a tutti. Ah, ok. Tre colpi in testa, così di fila. Ok, siamo morti tutti. Attenzione, c'è un grunt che ti viene addosso con le granate. Lì, va via! Va via! Sarebbe stato ridì. Ok. Vado a farmi uccidere di nuovo. Sono morto anch'io, come un cagnaccio. No, erano morti. Sono stato un cane, io ammetto la mia follia. Aspetta che devo uccidere un elit con la magnum, è la più grande disgrazia che possa capitare un essere vivente. Oh, 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 pistolina. Oh, 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 la pistolina dell'amore. Eccola qua. Veramente? Sono morto. Sono morto. Quanta gente c'era in quel punto. Sei l'ultimo rimasto, Manu. Non sei più l'ultimo rimasto. È pieno di gente in quel punto. È veramente pieno di gente. Hai ragione. C'è un sacco di gente anche di qua. Quindici secondi. Questo è molto bello. Che bello l'arbitre che chiede come va con le torrette. che bello. Ma ti immagini nella realtà. Spartan, come va con le torrette? Lo Spartan è caduto, è morto come uno stronzo. È caduto in acqua. Ma come... È inciampato. Ma... Ma buona bella. Ma... Comprensione. Schwester, adesso faccio lo... Bobby. Graham posesare tutto quello di queste riceoncevene. Gli eserano. Phisi. E' un threw rat dicho il unattrimono in locko. Esmer typically il Nisee del tuo silenzio. Mettranopowered... e va bene che bia metti ok, sono resuscita grazie grazie ottima giocata Luca complimenti sei proprio un strumento scusa ho una battaglia in atto con un grunt al piano superiore torno subito dove sei? c'è loro in mezzo a una battaglia così posso non c'è una granata in mezzo grazie allora, c'erano due elite con la spada al piano superiore ma sono morti come due stronzi quindi ora che ho fatto una bella cosa posso dirti che con la granata l'ho attaccato io per sbaglio sì sì, ce n'erano due di spada perché rimbalzano? ma quindi adesso Master Chief effettivamente lo usano come nome anche in italiano c'è un fucile particellare sì ma anche l'Arbiter dice Master Chief dovete raggiungere Master Chief cioè Master Chief è un grado Master Chief è un cazzo di grado perché dovresti chiamare qualcuno un grado? that's not a good idea però non diresti a caso devi raggiungere tenente capisci? esatto tra l'altro sti gradi dovranno essere aggiornati prima o poi sono bloccati così da quando avevamo nove anni portagli i miei saluti vedi? dice Chief se incontri Chief dagli i miei saluti demone se incontri Chief portagli i miei saluti ma perché? se incontri John se incontri se incontri lo Spartan se incontri si si no no non ho capito il discorso uno dei due era di Sparta ah ok si sono un pirna potevano fare potevano fare io sfondo pareti ma perché stiamo combattendo sul cammino? cioè stiamo cercando gli impianti di clonazione cosa stiamo facendo? mi va di mi andrebbe di giocare Battlefront 2 e non poco in questo momento a buttare fuori dallo scenario gli eroi che figata mi ha mi ha attaccato negato il plasma però invece è morto anche lui arrivano diversi grunte con ce n'è uno dietro la colonna ok madonna che cose cattive che dicono l'elite tipo c'è l'elite che guardando morire un giacca l'ha detto non merita di essere l'impianto madonna mediocre che vegeta degli elite ovvero che che Oh, 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 oh. Ok, siamo arrivati in qualche modo dall'altra parte. Eh? Non si era sentito. Bra, vuol dire che stai bene. Vieni, 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 vieni. Continuo a cadere all'infinito sotto, comunque ripeto, potevano mettere anche solo la telecamera che si bloccava quando cadevi in acqua, invece di vedere sotto i piloni. Non continuo a dimenticarmi di avere gli occhiali in testa, non è male. Bodylock. Ma figurati, ma figurati se sanno come arrivare lì. Buck! Io non posso crederci. Non posso crederci, Buck, sei un grande. Sono morto di nuovo. Dai, per favore, non farmi farlo stronzo. Grazie. 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 e muoio soprattutto ma il grunt con jetpack quanto è figo quanto è fiero si era era per carità era però era fiero altro checkpoint vedo dei cacciatori che tra l'altro erano stesi per terra fino a quando non siamo arrivati non avevo mai visto dei cacciatori stesi per farlo bravo wow io non ho parole wow 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 ci stiamo resuscitando ripetizione con il cacciatore che ci guarda niente, peccato era divertente grazie mille quasi beh che bella sgambata grazie mille grande bella grazie mille 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 Grazie a tutti. 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 Mi ha tagliato un bacio. Grazie a tutti. a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ecco il nostro scienziato. Grazie a tutti. 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 Ho visto. Grazie a tutti. Bene. Grazie a tutti. 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 In più. Grazie a tutti. Grazie a tutti. e lo metto. Una cosa del genere. cosa si vede. Posso? Grazie a tutti. e a tutti. a tutti. a tutti. hai disattivato. un'unico. 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 e... ciao. Ciao. Sì. e... va bene.